Dunque The Last of Us parte 2 finalmente tra noi e nel giro di qualche ora ovviamente Metacritic è stato sommerso di recensioni da parte degli utenti. Il gioco è stato massacrato da una quantità allucinante di voti. Nel momento in cui scrivo sono oltre 31.000 e hanno decretato una media di 3,5 decimi cioè 3,5 su 10 che è un valore un tantino distante dal 9,5 su 10 dato dalla stampa specialistica come potrete immaginare. Cerchiamo di capire che cosa sta succedendo. Allora personalmente ho apprezzato molto il primo capitolo The Last of Us per via della storia e della caratterizzazione dei personaggi. Non sono mai stato un fan del gameplay che ho sempre considerato in tutta onestà parecchio banale e in generale poco stimolante. Per il momento non ho nessun tipo di hype e di aspettativa nei confronti di The Last of Us 2. Non credo che lo comprerò e forse mi limiterò soltanto a guardare un let's play di qualche youtuber americano. Comunque che cosa è successo con queste recensioni? Dunque realisticamente è poco probabile che le review degli utenti siano state fatte con cognizione di causa perché fisicamente è mancato il tempo per portare a termine il gioco. Sappiamo che queste recensioni sono arrivate subito, subito dopo la commercializzazione mentre servono almeno 15-17 ore per completare l'avventura e circa 25 per i completionist. Detto questo è altrettanto vero che per mettere uno zero a un gioco devi essere parecchio incazzato. E se sei parecchio incazzato può essere però una sfilza di motivi, motivi che emergono effettivamente se andiamo a leggere i commenti e le recensioni stesse. Dunque andando a leggere si vede che molte di queste recensioni sono chiaramente di protesta oppure sono state lasciate da hater che hanno voluto far sentire in qualche modo la propria voce. Il problema è effettivamente che negli ultimi tempi sia Sony che Naughty Dog hanno avuto dei comportamenti non troppo popolari, soprattutto per i giocatori più hardcore, e hanno abbracciato questa filosofia del politicamente corretto e dei social justice warriors che sono in qualche modo la moda degli ultimi anni, specialmente negli Stati Uniti. La rabbia di buona parte, la maggior parte dei giocatori, arriva proprio per questo. Neil Druckmann, il direttore di The Last of Us, ha sottolineato più volte il proprio desiderio di seguire la strada dei guerrieri sociali con tutto ciò che ne consegue in termini di tematiche nei propri giochi. Ok, quindi dal mio punto di vista una storia può sicuramente essere valida anche se rimane entro i confini del politicamente corretto. Una storia può essere valida con un protagonista nero o un protagonista bianco, eterosessuale, omosessuale, transessuale, pansessuale o canesessuale. Non ha nessuna importanza. Sono elementi questi che hanno rilievo soltanto in relazione al resto della narrazione. Il problema è che determinati elementi come questi appunto oggi vengono inseriti all'interno della storia, quindi della narrazione, soltanto per rispettare una determinata agenda politica e per cercare di fare un bel lavaggio del cervello ai consumatori. Non c'è effettivamente un motivo reale per proporli all'interno della storia, anzi sono gli elementi di base intorno a cui poi si costruisce una storia per giustificare l'inserimento dell'elemento stesso. E quando vai a giocare a un gioco del genere, quando vai a seguire una storia del genere, ti accorgi che c'è una chiarissima forzatura. A fare incazzare ulteriormente i giocatori è stato il modo in cui alcuni trailer prima del lancio siano stati montati in maniera tale da dare informazioni sbagliate o comunque falsate su alcuni punti cardine della storia. Era questo un trucchetto che era già stato utilizzato da Drakman con il primo episodio di The Last of Us quando uno spezzone di un trailer fu creato apposta per il video senza effettivamente poi essere presente nel gioco stesso. Ricordo io di questa scena in cui vedevamo praticamente Ellie che sembrava sul punto di uccidere Joel, cosa che poi sappiamo nel gioco non succedeva. Dunque il discorso fondamentale secondo me è uno ed è molto semplice ovvero qui non si sta parlando di politica, non si sta parlando di essere di destra o di sinistra, di essere comunisti o fascisti. A me non frega assolutamente niente se un personaggio appartiene a una minoranza etnica o se è un bianco maschio eterosessuale, non mi interessa se è gay, non mi interessa se è lesbica, non mi interessa se ha la vagina dentata. Quello che mi interessa è che la storia sia valida, da consumatore mi interessa che ci sia un bel racconto. Ci sono dei film, film splendidi che parlano di omosessualità, che parlano di accettazione, che parlano delle difficoltà in ambito sociale, che parlano di rispetto. Ci sono film, ci sono romanzi, ci sono videogame stessi come può essere nel caso di Gone Home e tanti altri lavori simili. Esiste tanta roba di qualità, roba che fa discutere e che approfondisce anche su tematiche delicate ed importanti. A parte questi lavori che sono belli, che sono opere che vale la pena di vedere, opere che sono effettivamente affascinanti, ci sono poi anche gli estremismi, ovvero quelli infervorati, che fanno parte dei movimenti in stile femminazi. Quelli che paradossalmente considerano noi come fascisti quando loro stessi saltano alla gola di chiunque non la pensi come loro. Quelli come Druckmann, quelli come lo stesso Jason Schreier, quelli come Netflix, come i produttori che ritengono intelligente inserire un Achille nero nell'Iliade. Nel frattempo Steven Spielberg, che è un ebreo estremamente sensibile alle questioni degli ebrei, quindi che le ha molto a cuore, ti sa fare sicuramente uno Schindlerlist e ti parla di quella tematica. Realizza un film toccante, profondo, perfettamente riuscito e coerente con se stesso. Spielberg però, che ha le palle, non si fossilizza incazzato su un'idea. Non va a rovinarti i suoi lavori perché ha il cervello incancrenito su un'immagine. Sa anche spaziare producendoti Indiana Jones, producendoti Jurassic Park, E.T. e compagnia bella. Ci sono poi i film in cui lui si impegna politicamente, ma non va comunque a spalmarti in faccia tutte le sue frustrazioni. Ti sa tranquillamente gestire un Amistad, un Munich, un Lincoln, un film come Il Ponte delle Spie. Ecco, questa è la differenza fondamentale tra un creatore di contenuti che ha un pensiero e riesce a esporlo e a farlo passare. E un altro che invece è un estremista che si fossilizza intorno a un'idea e fa ruotare tutto il proprio lavoro intorno a quell'idea andando a rovinare la qualità del lavoro stesso. Io sto parlando di qualità di un prodotto. La tematica è importante, importantissima. Ok, ma non è sufficiente neanche da lontano se vuoi creare una storia valida. Tu puoi creare una porcata o un prodotto straordinario indipendentemente dall'argomento scelto. La gente oggi è stanca di vedersi sbattere in faccia la lesbica, il nero o il disabile di turno soltanto perché oggi è politicamente corretto includerli. Attenzione perché l'inclusione in sé va benissimo, ma che ci sia dietro un motivo che non sia fine a se stessa. Cerchiamo un merito alle spalle dell'inclusione. Non facciamola soltanto per poter dire guarda noi siamo bravi perché includiamo tutti. Inclusione significa che a parità di merito un omosessuale e un eterosessuale valgono lo stesso. Inclusione vuol dire che a parità di merito una persona disabile e una persona non disabile valgono lo stesso. A parità di merito. Nel momento in cui il merito non c'è da una parte o dall'altra, tu stai esclusivamente preferendo uno piuttosto che un altro sulla base del nulla, il che è esclusione, è razzismo, è classismo, è quel tipo di ismo contro cui questi tizi stanno dicendo di battersi ed è francamente paradossale. I giocatori oggi stanno mostrando una fortissima intolleranza ed è una intolleranza di pensiero, una intolleranza verso questi estremismi perché credetemi tante, tantissime delle persone che hanno messo gli zero a The Last of Us 2 non lo hanno fatto perché sono razziste, perché sono fasciste o perché odiano la gente di colore o gli omosessuali. Lo hanno fatto perché hanno le palle piene di movimenti di chiusura mentale come quello del femminazismo. Questi tizi vogliono le pari opportunità per tutti e per farlo vogliono eliminare tutti quelli che non appartengono una minoranza. Vogliono creare unione escludendo gente. Creare unione escludendo. E io non credo che sia necessario aggiungere altro. The Last of Us 2 viene silurato non per le sue tematiche in sé, ma perché è uno schiaffo a quello che è stato il predecessore. Se mi mantieni un gameplay identico a quello di sette anni fa, senza nessuna evoluzione di alcun genere. Mi inganni sulla trama con dei trailer realizzati ad hoc che mi facciano credere una cosa piuttosto che un'altra perché sapevi che i giocatori si sarebbero incazzati di brutto. E se forsi degli argomenti che non c'entrano assolutamente nulla con quello che stavi raccontando, soltanto per poter portare avanti la tua agenda politica, è la cosa più naturale del mondo che la gente si incazzi. Nessuno qui ha problemi con le storie adulte e l'ignoranza esiste oggi come esisterà anche in futuro. Su questo non ci piove. Però spingere un determinato pensiero danneggiando un'IP cara a milioni di persone non farà altro che creare astio nella community, non farà altro che generare ulteriore intolleranza. Intolleranza non verso quello che credono questi signori, ma verso il loro estremismo. Questa non è una mossa intelligente, non è una mossa costruttiva e sicuramente non è una mossa giusta e irrispettosa nei confronti di qualcosa che è amato, è stato amato e forse è ancora amato da tantissimi giocatori. Questo review bombing è una espressione di un malcontento generale verso questo tipo di propaganda, che con i videogame non c'entra assolutamente nulla. Non è questo il modo in cui si spinge verso l'integrazione, non è questo il modo in cui si combatte l'ignoranza. Secondo me gli americani dovrebbero cercare di farsi un piccolissimo esame di coscienza e provare a rendersi conto che forse, fino ad ora, forse le loro tattiche di inclusione non hanno portato a grandissimi risultati. Forse è il caso di mettere in discussione qualcosina. Comunque ragazzi fatemi sapere voi che cosa ne pensate, commentate e lasciatemi la vostra opinione. Io vi invito come sempre a condividere, a lasciare un like e iscrivervi al canale. Noi ci risentiamo alla prossima.